Io vorrei tranquillizzare chi ci sta ascoltando e tutti i cittadini ingelesi. Quello che è successo ieri è di un'infamia che solo poche persone al mondo possono fare e che però molte di queste persone risiedono in Sicilia. Quello che è successo ieri è la bocciatura del disegno di legge in prima commissione affari istituzionali. È già una cosa abominevole di per sé, ma non è che si è bocciato il processo di migrazione per Catania. Il disegno di legge bocciato ritorna alla presidenza della regione. La presidenza della regione cosa può fare? Prendere atto delle leggi vigenti. Voglio ricordare che le leggi non sono state modificate, quindi sono ancora in vigore. Prende atto delle leggi 15 e rinvia nuovamente in prima commissione il disegno di legge. Quindi quello che stanno cercando di fare è solo un rimballo per guadagnare qualche settimana, nulla di più. Ma è un percorso irto di difficoltà, quello delle migrazioni di Gela, Piazza Almerina e Niscemi a Catania. Perché ci eravamo già incontrati in altre circostanze, abbiamo detto che era tutto a posto, invece così non è purtroppo al momento attuale. Diciamo che il Parlamento regionale su creare sorprese negative non ha rivali al mondo. Credo che questa fase ci abbia portato come democrazia ai livelli del Burundi e purtroppo dobbiamo prendere atto che questa classe politica e questi parlamentari a Palermo non rappresentano le reali esigenze della Sicilia e forse per questo motivo la Sicilia è ultima in Italia nelle gradatorie di sviluppo. Lei diceva e sosteneva che ora il tutto viene rimandato alla Presidenza della Regione siciliana. Quando si parla di Presidenza della Regione, il riferimento è al Governatore, il gelese Rosario Crocetta. Ovviamente tocca al gelese Rosario Crocetta che dovrà nuovamente rinviare il DDL in prima commissione e stavolta ci auguriamo che se ha una maggioranza la mette in campo e faccia votare il DDL favorevolmente perché la situazione diventerà, non sta diventando, diventerà in ambito nazionale e internazionale molto imbarazzante. Qui è in gioco non più le scelte di Gela, Piazza, Almenia, Niscemi e Lico di Obea. Qui è in gioco la democrazia e le regole basilari della democrazia. Anche perché in tutta la sincerità a cosa sono serviti il referendum e poi i sì dei vari consigli comunali per l'emigrazione? Se loro vogliono bocciare tutta questa iniziativa anche in questo caso creiamo un precedente in Italia diventerebbe la prima volta in Italia in cui un referendum confermativo non ha seguito. Questo loro lo sanno e non lo faranno, infatti prendono tempo perché potevano inviarla in aula e bocciarla in aula. Siccome hanno capito che in aula sarebbe passata favorevolmente e quindi hanno preferito tornare indietro cercando di guadagnare qualche settimana. Bene, noi siamo pronti, siamo organizzati, ieri abbiamo avuto una riunione con i comitati di Piazza Armerina e Niscemi. Abbiamo ragionato serenamente perché siamo più che tranquilli di quello che abbiamo fatto e di quello che i cittadini vogliono e la nostra unica forza è la volontà dei cittadini di voler cambiare i consorsi. E questo non è controvertibile da nessuno, nemmeno da loro che in questo momento si sentono degli dèi dentro il Palazzo dei Normanni. Grazie.